bello a tutti ragazzi bentornati oggi ringrazio nuovamente il mio amico daga per avermi passato il video del caso bogdan vi mostro questo glitch che ormai da tempo sta online e sembrerebbe non riescono proprio appacciare quindi andiamo a vedere subito quello che dobbiamo fare innanzitutto diventiamo ceo andiamo una base operativa e ci dirigiamo nella stanza di pianificazione una volta qui facciamo freccia destra e avviamo il colpo ora invitiamo un amico e non appena entrerà ci troveremo su questa schermata una volta in questa schermata innanzitutto decidete in quale squadra mettervi poi a chi ha avviato il colpo si dovrà mettere una percentuale del 15 per cento e al vostro amico dovrete dare tutto il restante quindi l'85 per cento una volta impostato il tutto vi consiglio di mettere la modalità difficile per guadagnare più rp e soprattutto più soldi e poi avviate il colpo una volta usciti fuori prendete un'unica macchina quello che vi consiglio o fate salta viaggio oppure se avete la base operativa abbastanza vicino di andarci direttamente per fare la sfida elite a questo punto una volta arrivati davanti alla venger chi fa parte della squadra aerea dovrà chiamare la pegasus come consiglio e ordinare il sea shark se non ce l'avete comprate lo costa 15 mila dollari che vi servirà per poi andare a prendere il vostro amico e far prima la missione allora salite poi sulla venger e lo portate in questo punto preciso come vedete ci sono le moto d'acqua se non ci dovessero essere o il vostro amico quando ha finito la missione che gli finisce il video appunto e esce fuori dall'acqua e se la fa a nuoto fino alla riva e voi intanto rimanete sulla venger e distruggete gli elicotteri o se no se vi spawnano le moto prendete la moto e lo seguite in mezzo al mare come vedete il nostro amico ancora deve arrivare al sottomarino come vedete il nostro amico ancora deve arrivare al sottomarino una volta entrato sarà questa la situazione quindi chi fa parte ora della squadra subacquea una volta che sarà nel sottomarino dovrà uccidere esattamente più o meno 10 persone vi consiglio di guardare bene il video per vedere bene la strada quale sarà al momento che sarete nel sottomarino uccidete tutte le persone che vi sono davanti fino ad arrivare nella stanza dove sarà prigioniero Bogdan ok qui ci sarà Bogdan a questo punto lo dobbiamo solamente mirare ci uscirà il pallino giallo adesso che è uscito il pallino giallo torniamo indietro giriamo subito a sinistra non appena saliremo le scale ci sarà un altro nemico da uccidere continuiamo a salire fino ad arrivare alla sala di controllo ok adesso tiriamo fuori il telefono fotografiamo questo tavolo e ci mettiamo in questo preciso punto adesso parte il video che durerà più o meno due minuti due minuti e mezzo adesso vi dirà di uscire voi avvisate il vostro amico così vi verrà a prendere nel punto dove spawnate in mezzo al mare e vi dirigete all'Avenger ora una volta che partirete con l'Avenger salite abbastanza alti di quota fate freccia destra per cambiare la modalità di volo in aereo soprattutto consiglio per chi non è tanto esperto di non guidare l'Avenger e chiudere l'applicazione successivamente perché c'è il rischio che non gli riesca adesso chi ha avviato il colpo dovrà tenere premuto il tasto PS e posizionarsi su chiudi applicazione e ritornare al gioco adesso che siete vicino l'angar entrate dentro chi ha avviato il colpo tenga premuto il tasto PS e rimanga su chiudo applicazione non appena vedrà questo flash verde dovrà fare XX per chiudere il gioco a questo punto partirà l'animazione a volte potrebbe capitare che vi farà vedere tutti e due i personaggi a volte no non fa niente l'importante è che voi abbiate chiuso l'applicazione ora vi dirà vittoria vi darà i soldi e vedrete che ci sarà solo il vostro nome adesso chi ha chiuso l'applicazione la potrà riavviare e non appena sarà scomparsa la schermata della donna col cellulare quindi ci sarà una schermata nera dovrà tenere premuto L1 e R1 questo in modo tale da poter fare un reset diciamo dei dati di gioco fatto questo passaggio quando rientrerete in GTA Online vi ritarà il caso Bogdan da poter rifare lo consiglio anche di fare per salire velocemente di livello bene signori il video è finito vi ricordo di guardare la descrizione e di iscrivervi a tutti i canali dei miei collaboratori grazie Daga noi ci vediamo alla prossima shall we begin grazie a tutti grazie a tutti